Dopo la pausa invernale della stagione agonistica di Endurance, ha inizio la stagione del campionato regionale laziale 2009. Tra le tante conferme dei responsabili e dei quadri tecnici, in primis quella di Pino Furnari, nominato referente per l'Endurance nel Lazio dopo avere il Celso come chef d'equip nella Coppa delle Regioni, per un veterano dei regionali spicca l'assenza di Gabriella Bosco, Babi per chi la conosce più in fondo. A lei va un in bocca al lupo per il proseguo del suo vero lavoro di donna manager della podium e ringraziandola per il contributo che ha dato all'Endurance laziale e quello che continuerà a dare in ambito nazionale. In compenso, Pino, come prima da referente, se la cava alla grande, sia come organizzazione, sia come comunicatore. Buongiorno amici di Endurance TV, ci troviamo con il referente del Fondo per il Lazio, Pino Furnari. Buongiorno Pino. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, come vedete stiamo aspettando i primi partecipanti, è mattina presto, qui ad Arce. Una previsione per questa gara regionale e per tutto il campionato regionale che sta per arrivare? Diciamo che come prima gara non aspettiamo troppi cavalli, in quanto il tempo non è stato molto buono in questo periodo, pertanto i cavalieri non hanno potuto allenare molto bene. Però per il proseguo vedremo sicuramente di aumentare il numero e di fare un ottimo campionato regionale a Lazio. Beh, è stato infelice il tempo per i cavalli che si vogliono preparare alle gare. Ma ti rubo un ultimo secondo perché c'è una novità quest'anno e senza che l'anticipo, dicela te. Sì, ci sarà un premio finale per il vincitore del campionato delle varie categorie, dove lo premieremo forse addirittura qui in questo posto bellissimo di Peschi Solido. Poi per quanto riguarda cifre o cose varie ne riparleremo più in là. Va benissimo, intanto il premio c'è da una grande novità. Grazie Pino, ci vediamo dopo. In attesa di sapere le cifre, ecco dove si svolge il primo round del campionato regionale 2009. Ci troviamo ad Arce, città senza padrone. Fu dei Romani, dai Romani distrutta, passò a Liongio, diventò Feudo, fino al 1927 che divenne finalmente provincia di Frosinone. Quando siamo arrivati, Arce l'abbiamo trovata in festa, con musica e bambini festanti, intorno alla fontana di Piazza Umberto. Si faceva difficoltà a pensare ad Arce come ad una cittadina di 6.000 persone soltanto. Affacciata sulla Piazza Umberto si trova la Chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che fu edificata tra il 1702 ed il 1744, con il lavoro spontaneo di tutti i cittadini di Arce. Ed in questa cornice, che Arduino Peschi Solido, ha organizzato la manifestazione presso il suo circolo ippico. Alle varie categorie hanno partecipato in tutto 34 binomi, abbastanza per creare un po' di agonismo per il piacere del pubblico presente, ma in quantità sufficiente per poter lasciare gli addetti ai cancelli veterinari liberi di svagarsi nei lunghi momenti di pausa. Eccoci, siamo qui con il grande cavaliere Fabrizio Pogheschi. Vedete? La stazza, il peso, la forza fisica. Come pensate che stia il cavallo all'arrivo dopo la performance di Fabrizio Pogheschi? Ci riscrive il suo cavallo. Benissimo. L'eroe. Benissimo. Da notare un passaggio fantasma di alcuni binomi sul traguardo, che avendo sbagliato a percorrere l'anello, si sono trovati a ripercorrerlo ex novo. La categoria 30 km è partita alle 10 con il primo concorrente. In tutti i binomi scritti in questa categoria erano 16, di cui 4 non agonisti. Nei non agonisti vince Desiano Luigi su Ibu, con 18 secondi di ritardo ed una frequenza cardiaca di 36 battiti al minuto, risultato che gli sarebbe valso il terzo posto nella categoria agonisti. Categoria agonisti che riparte da dove era finita, ovvero dalla vittoria del binomio Caporossi Giovanni Battista su Zaira Black al campionato regionale, che si aggiudica alla prima tappa di quest'anno, con un ritardo di 51 secondi e 29 battiti cardiaci, per un punteggio di 13,54. Ci troviamo con Filippo Caporossi, che mi dicono essere il preparatore atletico di Giovanni Battista e anche del cavallo che ha vinto la 30 km. Diciamo del cavallo, che magari è più giusto. Allora, com'è andata la gara Filippo? La cavalla si è comportata bene, dopo cinque gare che qualche cosa comunque non era andata, una volta il cuore, una volta il calore, una volta qualche andatura non eccelsa, oggi la cavalla è andata molto bene. Prossimi impegni? Il prossimo impegni sarà con la cavalla vecchia, con quella di 9 anni, una 90, e poi continueremo con questa su una 60, che sarà il debutto sulla categoria. Ma chi starà in sella, te o papà? Questo ancora bisogna vederlo, ma credo ancora lui. Va bene, lo vedremo. Il link è il suo. Lo vedremo alla prossima tappa di campionato regionale. Grazie Filippo. Buon Paolo. Galanti Marco, vincitore con il suo Caroli della Best Condition, si piazza al secondo posto, staccato di due punti, con un punteggio di 11,3. Al terzo posto si è posizionato Andrea Iacchelli su Arel, quarto posto per Ufini Giorgio su Santiago, e quinto D'Amico Emiliano, che per un eccessivo ritardo al cronometro, 5 minuti ed 11 secondi, si esclude dal podio. Prime due posizioni blindate anche nella categoria 60 km, dove Campisi Sabrina e Lattanzi Consuelo creano il loro divario nella prima fase, tagliando il traguardo con una manciata di minuti di ritardo, ma impiegando solo due minuti e mezzo ad andare in visita, centrando il tempo nel secondo giro, 36 secondi di ritardo Campisi e 42 secondi di ritardo Lattanzi, il tutto con una scelta di andatura costante e intelligente, che ha portato i cavalli alla fine della seconda fase con una frequenza cardiaca molto bassa. Allora, siamo con Sabrina, la vincitrice della 60 km, allora come è andata la gara? Bene, bene, tutto a posto. Il percorso come l'hai trovato? Un po' difficile, però vabbè, è andata. E i prossimi impegni? Non lo so, forse finiremo il campionato, vedremo. Il campionato regionale delle 60? Non lo so, dobbiamo programmare ancora tutto. Vabbè, per ora complimenti per il primo posto. Grazie. Grazie a te. Kila su Karims vince il trofeo sfortuna, essendo eliminato per Zoppia all'ultima fase, con la stessa frequenza cardiaca della prima classificata e qualche secondo in meno di ritardo. Ma si sa, il fondo è così. Se vuoi finire primo, prima di tutto devi finire. Al terzo posto, Angeletti Stefano su Nadir, quarto classificato di Matteo Federico su Isidoro, che supera di un soffio Pasquini Luciano su Flagello, che si colloca al quinto posto. Nella categoria 90 km, unico trionfatore è Nicola Herculei su Akenaton, che passa indenne tutte le fasi, al contrario dei suoi avversari, che cedono uno alla prima, l'altro alla seconda fase. È proprio questa fase che mette i brividi a Nicola, quando, alla fine della visita veterinaria, gli viene richiesto il recheck, ma a Akenaton lo passa alla grande, dimostrandosi pronto ad affrontare gli ultimi 30 km, passando indenne anche l'ultima visita veterinaria. Per la gioia della squadra, che lo ha seguito per tutta la gara. Ciao Nicola, allora, finalmente è finita. Com'è andata la gara? Va bene, mi sono divertito. C'è stato un momento che l'hai vista brutta al secondo giro? Eh sì, abbastanza. Però Rececca ha superato bene il cavallo? Sì, è andata alla grande. Era meglio che facevate direttamente Rececca, che è stato perfetto. Eh sì, stavolta sì. Ok, prossime gare, prossimi appuntamenti? Non so, guardo ancora il calendario. Ok, complimenti. Bella gara. Grazie. Grazie a te Nicola. La prossima tappa del campionato regionale si svolgerà presso il Trekking Club di Andrea Toti sulla Via Pontina alle porte di Roma, il 5 aprile. Da Endurance TV è tutto, buon allenamento.